Salvatore Cammisa e la sua danza fiabesca degli scafi. Donato russo, ovvero il disequilibrio allineato pieno di sfumature. Valerio Atria con l'originale visuale della premiazione di Luna Rossa, Francesco Montuoro Mollo per l'armonia degli eterni elementi di Napoli e Valeria Viscione per la sintesi di energia e passione di un equipaggio. Sono i cinque scatti premiati ex equo nel concorso fotografico Metti a fuoco l'America's Cup indetto dalla provincia di Napoli. La giuria composta da giornalisti e fotografi li ha selezionati fra 350 foto di 150 partecipanti, professionisti e dilettanti inviate tramite Facebook. Un modo nuovo per verificare il grande interesse suscitato dalle regate per i luoghi, suoni e le sensazioni che uno spettacolo come la Coppa America del Golfo di Napoli hanno saputo offrire, attraverso immagini che a volte sanno comunicare meglio delle parole. Abbiamo dato anche visibilità a un evento molto importante per Napoli come l'America's Cup. Sono felice che sia stata premiata proprio questa foto. Trasmette proprio lo sforzo che viene fatto da chi si trova proprio sulle barche.